Un'altra, libero! Attenzione, trappole sulle scale Si innesca la 3-1 3-1 Libero Cazzo Vado al secondo piano Piano di equipaggiare E poi Libero Ricevuto A tutte le unità a raggrupparsi al convoglio Timon 1-2 a Red Hammer 7 Tutte che difendono l'ingresso sud dell'ospedale Ci tengono un po' così Serve supporto aereo immediato Mettaglio di brutto Mettaglio di brutto Mettaglio di brutto Passeremo dall'atrio dell'ospedale Reggresso dell'ospedale inizia Siembra fortificata RPC Scopo Scopo Mettaglio di brutto Mettaglio di brutto Ferbettano di brutto Sì! Sì, visto? Si muovono. Si muovono attraverso l'atrio. Eccolo il punto. Venti destino. Sì, visto? Sì, vieni fuori. Sì, vieni fuori. Si muovono. Ho colpito. E a terra. Si muovono attraverso l'atrio. E vedo uno. Trezza metri. Sì, vieni fuori. Vediamo dei stagni dell'atrio. Vieni fuori. Vieni fuori. Vieni fuori. L'amore. Non c'è la mia. Non c'è la mia. Nemico. Dieci metri. Non c'è la mia. O vieni fuori. Non c'è la mia. Non c'è la mia. Non c'è la mia. Dieci metri. Muovereci. Sì, vieni fuori. Atrio sicuro. Nessuna traccia del lupo. Timono a caccia. Greg, prendiamo quel pezzo di merda. Ricevuto! Ricordati che ci serve vivo, 3-1. Ricevuto. Avanti! Scusini! Posparare! Posparare!